come senti? tu sei tu? perchè la mano capra guarda è un'espressione molto volgare stava facendo lei la foto pura coppia sembra l'ergo che sei la frase viene il mio tu vuoi il rio? no questo è un'espressione è un'espressione qui? all'espressione in europe sono un'espressione è un'espressione è un'espressione è un'espressione è un'espressione grazie grazie